La stessa sempre molto attenta del Cassiano, ma Puzzi trova però l'angolo giusto, nulla può perdere. Attacco di Laita, Co Bianchi, è la specialità della casa, cambio di direzione. Destra, sinistra, sì, è il suo marchio di fabbrica. Molto versato, e Lucarini trova il gol del più 5. Donna Lucarini non fallisce, bel gol nel set. Mestrino batte Cassano, 19 a 16, e accede alla semifinale. Grazie a tutti.